Brigitte Margotte, Margotte? No, non è Margotte, però io devo parlare della Margotta Margotta, che non è un famoso mare. Lo sai qual è il mare più dolce? Oh, lo sai? No, devi parlare, se non sei inquadrato devi parlare, non fai così! Qual è? È la marmellata, marmellata. Ma cavolato, vabbè, che vecchia. La Margotta, è forte la Margotta, la Margotta è il dono delle piante. Le piante come le tagli, boh, se replicano. Pensa, allora le piante se hanno l'anima, come dicono gli Anikrishna, tu le tagli e quelle poi diventano un altro essere, quindi diventano due anime. La domanda pure mia è, se c'è la rincarnazione e tu sei l'ombrico, te tagliano a metà, diventano due, perché quelli poi continuano a vivere. Com'è sta storia? Allora entra un'altra anima dentro a quel corpo, se c'è la rincarnazione e l'anima è così, entra un'anima così e quindi al posto di entrare con la solida tecnica dell'entrata dallo spermatozoo, gli Anikrishna dicono che l'anima risiede la primitiva nello spermatozoo e quindi poi tutto l'utero eccetera, il feto eccetera, diventa in questa maniera, ti arriva dall'alto un'entrata dell'anima. Tanto più che poi poi dicono pure che ogni cellula, almeno da quello che ho capito, ha l'anima, allora è tutto anime dentro l'anime, il nostro corpo è fatto di tante cellule, con tante anime dentro, di cui noi siamo l'anima suprema. In questo caso un'altra anima suprema, ma chiunque quando tagli una pianta o un lombrico o non so che, che continua a vivere, si sdoppia, entra un'altra anima. Sarà così? Non lo so, questa è una bella domanda, un bello spunto di riflessione, lo faccio a tutti gli Anikrishna se mi danno una risposta. Io però volevo parlare della margotta, la margotta è forte perché tu hai un albero, no? C'hai rami? Gli metti un vaso pieno di terra su un ramo, il corpo dell'albero capisce che avvolge il ramo, certo, faccio una foto, gliela metto, guardate qua. Ecco, mettiamo questa cosa e lui fa le radici dentro la terra. Quando ha fatto le belle radici pronte per poter continuare a vivere, tu gli tagli la parte a valle e lui rimane vivo con mezzo ramo, mezzo braccio tagliato, però l'albero è così, cioè non è che crepa, lo potano e tante volte fa proprio bene potarlo perché lo rende più forte, fa fare frutti più buoni, più gustosi, sennò disperde le sue energie nei tanti rami, almeno dicono certi questa cosa e certi dicono io no, però io ripeto, io non so la verità, io dico le varie cose. E alla fine che succede? Che tu gli puoi tagliare questo ramo e questo col vaso, tra l'altro c'è già il vaso, vabbè gli avevi il vaso e lo pianti per terra e ti dà un bel frutto con la genetica di quello primigenio. E noi abbiamo un bell'albero di mandarini che ora lo assaggeremo perché quest'anno ha fatto il primo mandarino, ha fatto uno solo, poi vi faccio la foto. Forte sta cosa e quindi Brigitte Margot è un po' un'ibridazione genetica fa Brigitte Bardot e l'altra chi è? Brigitte Margot, era una che stava in stato vegetativo. Ciao, vi saluto, anche oggi vi ho detto cose strane, ciao ciao!